Una furia, un'aggressione senza senso e con una violenza inaudita è quanto accaduto il 9 marzo scorso a San Martino di Lupari nei pressi di una pizzeria da asporto. La vittima, un carabiniere in pensione a lungo il servizio a Castelfranco Veneto, che a un giovane al di fuori del locale aveva semplicemente chiesto di raccogliere il cartone della pizza che aveva visto buttare a terra come accade spesso. A quel punto l'aggressore, identificato in un giovane di 19 anni, Valide a Dab, residente a Tombolo e sinora incensurato, ha sferrato un gancio che ha colpito l'arcata sopraccigliare del carabiniere in pensione, scaraventandolo a terra. Non pago, il 19enne, ha continuato a infierire con calci ripetuti la caviglia, ripresi i sensi, il sessantenne ha chiesto aiuto alla moglie, trasportato in ospedale a Cittadella, è stato operato e attualmente è a casa con la gamma ingessata e immobile. La prognosi per ore è di 60 giorni, la caviglia potrebbe non tornare più quella di prima. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno esaminato le telecamere di videosorveglianza e identificato l'aggressore riconosciuto anche dalla sua vittima. A quel punto per lui sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni pluriaggravate con il giudice che nell'ordinanza ha sottolineato l'estrema pericolosità sociale del 19enne.